Ben trovati in un appuntamento con l'ospite. Questa settimana parliamo di sanità. Lo facciamo con un esponente del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca, il dottore Franco Giordano, che ho invitato a dire la verità anche per parlare di un altro tema caldo degli ultimi giorni, ossia la vicenda della vaccinazione dei bambini anti-covid dopo il via libera anche di AIFA dopo EMA. Intanto però grazie per la disponibilità e partiamo dalla situazione dell'ospedale perché è quella che nelle ultime settimane è tornata alla ribalta. È un problema mai risolto in realtà quello della carenza del personale medico e infermieristico e però nelle ultime settimane anche il Comitato ha nuovamente denunciato una situazione che è quale, dottore Giordano? Cioè in che situazione siamo dopo il covid, la fase drammatica, dopo le tante battaglie, delle tante iniziative che il Comitato ha portato avanti in questi anni? Intanto grazie per l'invito che è anche fonte di responsabilità per le cose che sono chiamato a dire e su cui sono chiamato a rispondere. La situazione è quella di molti ospedali siciliani ed è legata anche al destino di quello che sarà il servizio sanitario regionale, nazionale ma regionale perché l'autonomia ci consegna questa per molti aspetti assurda situazione per cui lo Stato paga ma la gestione e il modo in cui questi soldi vengono spesi, spesso sono indipendenti dalle linee generali e sono spessissimo variabili da regione a regione, quindi questa è una cornice dentro la quale noi dovremmo collocare tutti i ragionamenti che facciamo e faremo. La situazione è peggiorata per molti aspetti perché la gestione da parte del governo regionale non è stata sicuramente ottimale perché noi abbiamo sprecato una situazione quasi di liaca, noi avevamo per molti aspetti una situazione abbastanza poco critica all'inizio dell'epidemia che via via si è aggravata dopo che si sono verificati gli episodi drammatici che conosciamo tutti, Lombardia, Bergamo e così via. I tracciamenti fin dall'inizio sono stati forse non abbastanza tempestivi, ma eccetera eccetera. Noi abbiamo avuto praticamente tre lockdown che ci saremmo potuti risparmiare forse con una gestione più oculata di molti aspetti dell'epidemia. Poi è arrivato il vaccino e sicuramente anche di noi molte cose sono cambiate, ma non come nel resto d'Italia. Quindi noi manteniamo intanto questo distacco dal punto di vista della gestione e della sanità rispetto alle altre regioni. Per cui andiamo sicuramente meglio, ma meno meglio rispetto a molte altre regioni. Adesso del Covid parleremo, però le chiedo la situazione dell'ospedale di Sciacca, sgravato negli ultimi mesi poi da presenti Covid per fortuna, da quando è stato aperto il Covid Hospital di Ribera, è tornata ad una situazione di normalità o no? E' peggiorata, se dobbiamo essere sintetici. E' sicuramente peggiorata perché l'essersi concentrati sull'emergenza, già a partire dall'inizio del 2020, ha cacciato fuori dall'ospedale tutti i pazienti che avrebbero avuto necessità di ricoveri per diagnosi o trattamenti nei reparti principalmente di medicina, ma non solo. Tutti sanno che molte persone, particolarmente anziani, ma persone con malattie croniche, hanno rinunciato a ricoverarsi, ovvero si sono ricoverati con notevole ritardo rispetto all'esordio dei sintomi con le conseguenze che si possono immaginare in termini sia di mortalità, sia di disagi, sia di spese, perché molte di queste prestazioni sono state convogliate verso il settore privato. L'apertura del centro Covid di Ribera ha alleggerito, fra virgolette, la necessità dei ricoveri per le persone contagiate da Covid che necessitavano di terapia intensiva, ma questo è avvenuto con l'uso prevalente o sostanzialmente fornito dall'ospedale di Sciacca. Non solo, ma questo, avere spostato verso l'ospedale di Ribera, i ricoverati che normalmente a Sciacca erano stati trattati per almeno due terzi dell'epidemia dai medici del reparto di medicina e di nefrologia, non si è accompagnato a un ripristino della funzionalità dei reparti. Tutti, in questo caso perché il personale è stato dirottato verso Ribera, medici, infermieri, anestesisti e tecnici specializzati di anestesia, ma anche i disagi che hanno incontrato sicuramente tutta una serie. Per esempio l'attività della chirurgia si è sicuramente ridotta. I nefrologi, io avevo detto in precedenti interviste rilasciate alla vostra emittente, che la creazione di un reparto di terapia intensiva e di medicina Covid a Ribera, proprio per le complicanze alle quali questo particolare tipo di malati va incontro, necessita di una serie di specialità di sostegno, cardiologico, nefrologico, laboratoristico, radiologico, che non dovrebbero essere effettuati con medici e infermieri presi a prestito, nel senso che si obbliga il nefrologo a recarsi a Ribera in regime di reperibilità o con le cosiddette prestazioni aggiuntive, che significa quasi a tariffa libero professionale fuori orario, senza quel corteo di apparitiature, di assistenza, di tecnologia, che in questi casi avrebbe dovuto essere presente nello stesso ospedale. Il problema alla fine è sempre quello, cioè noi possiamo attivare nuovi ospedali, nuovi reparti, nuovi posti letto, ma medici e infermieri sono sempre gli stessi? I medici sono sempre gli stessi, tendono a diminuire per i diversi pensionamenti che nel frattempo ci saranno, ci sono stati e ci saranno, e altra nota dolente, per i prossimi 4 anni almeno, noi avremo pochissimi specialisti a disposizione, perché tutti i medici assunti con contratti a tempo e che hanno fornito un sostanziale supporto, diciamo, nelle diverse fasi dell'epidemia, della pandemia… Sono tornati a fare la specializzazione? Alcuni sono tornati, in buona parte invece grazie ai titoli maturati in questa esperienza hanno potuto accedere alla specializzazione, per cui hanno rinunciato a questo lavoro che è incompatibile con quello di specializzando, che è un lavoro a tempo pieno, in piena regola. La questione si trascina da anni e anni, è una scelta politica quella che si è fatta nel tempo. Diciamo che il Covid ha fatto poi emergere in tutta la sua gravità quello che è il problema della carenza di medici, infermieri. Le chiedo, ma il numero chiuso, la facoltà di medicina, delle professioni sanitarie, che cosa abbiamo sbagliato in questi anni? Cioè, come si risolve il problema dei medici che mancano, degli infermieri che non ci sono, degli specialisti, dei tecnici che sono sempre carenti e poi fanno anche scelte diverse, perché poi dobbiamo dire, lei ne faceva cenno, che chiaramente se io ho un contratto a tempo indeterminato scelgo quello rispetto a un incarico conferito per tre mesi? Lei consideri che già prima che entrassimo in questo buco nero della pandemia, già c'erano notizie da diversi anni, diciamo, nei bollettini dei sindacati, ma anche insomma in documenti ufficiali. E' facilissimo rintracciare le tracce di quello che sto dicendo. Cioè, c'è già in atto un abbandono da parte di molti medici, specialmente quelli che sono in prossimità del pensionamento, ma anche prima in molti casi, c'è questa tendenza ad abbandonare le strutture pubbliche per la scassa gratificazione economica, ma questa, con opportuni accorgimenti, non dovrebbe essere necessariamente irrisolvibile, ma principalmente per la situazione di rischio e di aggressività da parte di molti utenti, a ragione o meno, questo si valuta nelle sedi opportune, verso il privato. E questo, io quando ho fatto quella premessa all'inizio, mi riferisco proprio, ci volevo invitare tutti quelli che ci seguono, a riflettere sul fatto che non è in discussione all'ospedale di Sciacco da Grigento, è il servizio sanitario nazionale e regionale in particolare, che sta letteralmente esplodendo, che viene sempre più fagocitato dal privato e per la parte che riguarda il pubblico, sembra essersi ridotto a un erogatore di stipendi e a luoghi in cui arrivano le rogne più costose o più rischiose che il privato non gradisce trattare. Gli altri problemi collaterali, come quello per esempio del numero chiuso, questo è un problema secondo me relativo. Una soluzione, per esempio, a proposito di questo, numero chiuso, avrebbe potuto essere quello di clinicizzare alcuni ospedali, e non tutti evidentemente, nel senso di farli diventare luoghi di tirocinio per le specialità e quindi dovrebbero… Distribuire un po' con la risorsa. Non solo, ma chiaramente dovrebbero funzionare con una dotazione e una qualità di personale e di tutor, che non potrebbe essere quello attuale, e secondo standard assistenziali, che non sono sicuramente quelli che i nostri cittadini vedono, osservano e subiscono in molti casi in questi ospedali che sono diventati territorio di caccia per politici di scarso valore e per scelte che sono assolutamente folli. Quindi il numero chiuso può essere un problema, basterebbe aumentare il numero dei posti. Il criterio che secondo me chi va a svolgere queste professioni dovrebbe essere selezionato a monte, è un problema secondo me che si potrebbe correggere, per esempio potenziando i circuiti attraverso i quali gli studenti delle scuole superiori potrebbero acquisire quelle competenze richieste per superare questi test. Ma il problema vero non è quello dei laureati, è quello degli specialisti, ed è la loro distribuzione, perché, e qui entriamo in un altro capitolo, il Fondo Sanitario Nazionale, che è diverso da regione a regione, ma il modo in cui viene gestito e le scelte che si fanno sul territorio non sono sicuramente adeguati a quelle che sono le conoscenze e le esigenze di una medicina moderna, che realizzi al meglio della qualità e non dell'efficienza, cioè come numero di prestazioni, tutte le conoscenze in materia di prevenzione e di appropriatezza di prestazioni, quindi cose utili al costo migliore, che la modernità ci consentirebbe e ci imporrebbe. Senta, nei prossimi anni dovrebbero arrivare molti fondi, il Covid quantomeno questo dovrebbe lasciarci, cioè investimenti nel settore della sanità. Noi saremo capaci di realmente utilizzare questi fondi per poter migliorare la sanità in Sicilia e portarla a livello anche di altre regioni italiane? Guardi, ci sono già molti documenti preparatori di singole regioni, ma anche a livello di Ministero della Salute, che suggeriscono già come si dovrebbe rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale e quindi i corrispettivi regionali. Noi, secondo me, durante la pandemia abbiamo dimostrato come non si dovrebbe fare. Anche questa proliferazione e queste promesse di aprire i piccoli ospedali per farli diventare doppioni di realtà esistenti. Quel rapporto tra Ribera e Sciacca secondo me è un modello da laboratorio di come non si fanno le cose, perché l'idea che noi dobbiamo avere un ospedale ogni paese, come se tutta l'assistenza si dovesse svolgere in ospedale, che è un falso storico. Si porta dietro una serie di atteggiamenti che non consentono né ai commissari, né ai direttori generali, quando ci sono, né ai commissari, di fare un lavoro di pianificazione che vada incontro ai bisogni assistenziali di una popolazione che è totalmente cambiata. Lei consideri il peso che, l'aumento della vita media, della durata della vita media, che non significa durata con livello di vita soddisfacente. Si porta dietro una serie di problemi, di assistenza, di situazioni, dalle lungodeggenze alle demenze, ai luoghi fisici dove queste persone hanno bisogno di essere trattate, che da noi non vengono sicuramente affrontate secondo criteri di, diciamo, di appropriatezza. E però non è proprio questo il problema. Cioè noi, dalle sue parole emergeva, contestiamo il fatto che cerchiamo l'ospedale sotto casa o vicino casa. E però lo cerchiamo perché non c'è una medicina nel territorio che è presente ed efficiente. Quindi intravediamo soltanto nell'ospedale quanto più vicino possibile, l'unica possibilità di cura e di assistenza adeguato. E questo è il problema? Il problema è questo per le patologie acute. Ma nessuno si chiede qual è il destino delle persone che dopo aver ricevuto, io non parlo dei codici bianchi, dei codici gialli, io parlo delle malattie croniche, io parlo delle persone che hanno bisogno di interventi di una certa delicatezza, io parlo dell'oncologia, degli anziani che in genere hanno almeno due o tre patologie associate. Ritornando al discorso che stavo facendo poco fa, noi ci gloriamo del fatto che la vita media con una certa autonomia è arrivata intorno ai 70 anni, si muore anche a 100 anni, bisogna vedere come si muore, come si arriva a quell'età e per quanti anni molte di queste persone si trascinano fra un centro per anziani, terapie fisioterapiche e tutte le patologie di cui sono portatori, diabete, cardiopatie, malattie polmonari, problemi di deambulazione, eccetera, eccetera. Cioè quando una persona esce dall'ospedale con una diagnosi, quale che sia, chirurgica, e ha bisogno… Che cosa viene offerto, poi do, oltre l'ospedale? Cosa viene offerto e chi si interessa, chi è in grado di organizzare non un numero di prestazioni, ma un percorso di interventi, di cure che porti queste persone a avere i trattamenti migliori, nelle condizioni migliori e da parte dei tecnici più esperti. È un bazar, è un labirinto. E questo in fondo, il settore, la questione che noi dovremmo affrontare in questo momento, al di là degli ospedali. Esattamente, l'ospedale non è in grado di dare questo. L'ospedale è soltanto l'assistenza per… Noi facevamo una distinzione, certo, in ospedale… Come quando banalmente al pronto soccorso ricorriamo per qualsiasi problema anche non serio, non importante. E perché non troviamo il resto delle possibilità? Per la verità, la normativa esistente, anche le ultime voze di riforma, a partire dal decreto Balduzzi, l'ultimo in ordine di tempo, che riorganizzava e classificava in maniera diversa gli ospedali, già c'erano delle tracce. Le case della salute, cosiddette, che sono dei luoghi in cui si dovrebbero concentrare, per esempio, i medici di base, i pediatri di base, i trattamenti fisio-riabilitativi, le altre prestazioni specialistiche, i centri per la salute mentale. Cioè, il cittadino dovrebbe avere dei luoghi in cui c'è chi lo guida, per mano oserei dire, attraverso tutto il canale, i meandri della burocrazia, ma anche delle possibilità che il servizio sanitario dovrebbe essere in grado di fornire, ma che eroga sostanzialmente in maniera dispersiva, mediante rapporti di convenzione, che spesso sono vantaggiosi per chi contrae, realizza queste convenzioni, questi accordi, quindi con un utile, che invece il servizio pubblico non dovrebbe perseguire, che il servizio pubblico, per definizione, come tutte le strutture pubbliche, le scuole, i comuni, non dovrebbero inseguire obiettivi utili o di profitto. Sente, però provocatoriamente lei chiedo, quanto il personale sanitario è alla ricerca di questa evoluzione della sanità nel territorio e vorrebbe perseguirla, nel senso che poi la scelta di andare a lavorare nello studio privato, la scelta della convenzione, è fatta anche dai professionisti, che magari sì, sarà vero che non trovano nel territorio la struttura pubblica, però non dovrebbe anche essere un ruolo del comparto medico, chiedere con forza tutto questo. Assolutamente, questo esiste, questa richiesta c'è, ma queste voci sono molto flebili, spesso molti di questi professionisti si autocensurano e non ottenendo risposte soddisfacenti da parte delle amministrazioni, i manager di cui tanto ci parlano, di cui è pronta un'altra infornata breve, un'altra infornata breve, in primavera si prospetta. Sì, 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 lei si chieda perché questo aspetto di Agrigento, per esempio, a questa maledizione, di non riuscire ad avere un direttore generale, quando ce l'ha, ce l'ha pure minaccioso, insomma, come a noi è capitato. Quelli che erano forse appena decenti, o si sono pensionati appena hanno avuto la possibilità o hanno scelto altre destinazioni. Quindi non è che mancano le persone, secondo me, è chiaro che hanno il desiderio di valorizzare il ruolo che loro attribuisce la riforma, ma il problema è che trovano, come dire, le porte chiuse o i famosi muri di gomma di fronte a loro e quindi si adeguano nella maniera che tutti sanno. Si può partire dalle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche, come anche alla qualità degli interventi chirurgici, come anche agli… Veda, c'è un qualcosa che noi omettiamo puntualmente, cioè noi siamo abituati, se lei sente ogni tanto… Ogni intervento, secondo noi, particolare, viene pubblicizzato dalle televisioni, ha effettuato un intervento rarissimo nel comune di Valdarno Fossombrona, per non fare nomi a noi vicini. Chi fa questi interventi di qualità non dovrebbe pubblicizzarli perché ne fa uno o due in televisione, perché se poi si va a chiedere in quali condizioni lo fanno operare e quanti di quegli interventi vengono fatti possibilmente in un centro anche pubblico di Palermo, lei scoprirebbe delle cose assolutamente indegne, nel senso che ci sono fior di professionisti che lavorano con un numero, come dire, di finire vergognoso di personale di supporto fra infermiere e os, ci sono malati, un malato che si dovesse ricoverare, per esempio, un anziano in un reparto di medicina. La prima cosa di cui ha bisogno, oltre a dei bravi medici, dei bravi infermiere, è un numero di persone, congruo in grado di badare a queste persone. Peraltro durante il periodo del Covid è stato vietato ai familiari di accedere e fornire l'assistenza e sono venute fuori situazioni reali. Io dico, aggiungo qualcosa, e cioè, quando in un ospedale si affigge all'ingresso del reparto un foglio in cui si dice che causa motivi di… l'abbiamo letto tutti, diciamo, durante il periodo del Covid, è vietato l'ingresso ai strani, ai trani motivi eccezionali, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto io penso che chi mi impone una condizione del genere si sia attrezzato per sopperire alle esigenze assistenziali di persone che, diciamo, di ricoverati, di pazienti che non possono contare sulla presenza di un parente per le esigenze minima, ma anche semplicemente per avere una compagnia, cioè per avere qualcuno che sia anche… non per… che vigili anche su di lui quando i pochi infermieri sono al lavoro. Quindi, intanto che si attrezzi, diciamo, di personale quantitativamente, quantitativamente, lo do per scontato che debba essere sempre al top, quantitativamente, idoneo alle esigenze di quel tipo di ricoverato. Bene, la realtà è esattamente il contrario. Cosa si fa in questi casi? Si concentrano i reparti, si mettono… se noi abbiamo personale, diciamo, delle stesse specialità, a 20 o 15 o 30 km di distanza, concentriamo tutto in un'unica struttura e garantiamo il meglio… No, noi invece ci siamo specializzati nella tecnica della dispersione del personale, addirittura mandiamo, diciamo, personali specialisti di cardiologia, di medicina, di ortopedia, per lungo gli ospedali della provincia, per andare a svolgere dei servizi in reparti che hanno scassissima attività. Allora, questo sicuramente non va nell'interesse dei pazienti. Non so quanto vada a favore del personale, perché anche se vengono pagati fuori turno, cioè dovrebbero essere pagati al completamento dell'orario di servizio come prestazione oraria, non so questo, diciamo, che tipo di futuro possa dare, né sicuramente è una strada attraverso la quale si possono ripopolare ospedali, che già la storia degli ultimi 20 anni ha dimostrato che per motivi che bisognerebbe studiare caso per caso, hanno per tutto quella funzione. Ora, invece di continuare con queste operazioni di bassa cucina politica, che fanno danni a tutti, innanzitutto ai pazienti, ma poi perché il servizio sanitario esiste per curare i malati, secondo me, secondo qualcuno serve per reclutare persone, che sono due cose non sempre che vanno di parevasso. Volevo fare un'ultima battuta sulla premessa di cui lei partiva. Quindi io ho detto che se c'è una situazione d'emergenza che costringe a vietare l'ingresso degli estranei, quando questo clima, quando la campagna di vaccinazione ha dimostrato di avere successo, sarebbe stato doveroso, secondo me, studiare strategie diverse, modulare in maniera meno drastica questo divieto. E' rimasto tale quale. Al momento, visto che l'ospedale, la struttura sanitaria non è nelle condizioni per carenza di personale, quantomeno consentite ai familiari o ai volontari. Ovvero di semplificare l'iter attraverso il quale si consentiva in alcune delle parti l'ingresso di familiari. Invece non è successo, come se niente fosse accaduto. E siccome tutti frequentiamo gli ospedali, era facile vedere, particolarmente durante l'estate, quando alle carenze già croniche si aggiungono i turni di ferie, giusti per i cittimi. Io ho assistito personalmente a situazioni di infermieri che svolgevano turni di 18 ore, con un intervallo sia no di mezza giornata, per riprendere sotto forma di prestazioni aggiuntive, per non parlare poi dei medici assunti come co-co-co, come vaccinatori, che in qualche caso in Sicilia sono stati indirizzati verso altri reparti. Quindi c'è una situazione che secondo me ci sarebbe la possibilità di ricondurre entro i binari di quella che qualcuno chiamava di una normale decenza. Ci vuole una volontà, quella famosa volontà politica, che significa capacità di fare scelte chiare a favore della medicina pubblica o della medicina privata. Che poi, fra l'altro, questo spartiacque in tutta Italia, ma specificatamente da noi, è una mezza barzelletta, perché c'è un falso pubblico e un falso privato. Spesso il pubblico non ha altro che la dependanza degli studi privati, dove si fanno le prestazioni promesse dietro pagamento preventivo. Senta, lei poco fa accennava al fatto che la provincia di Agrigento, l'aspe di Agrigento, è l'unica, o una delle poche, quantomeno possiamo dirla, che è da anni guidata da un commissario. Il Comitato per la Sanità di Sciacca, del quale lei fa parte, che rapporti ha avuto con questo commissario, con l'attuale commissario Zappia? Voi lo avete incontrato diverse volte, avete posto quelle che sono, a vostro avviso, le questioni fondamentali, al di là di tutta una serie di problematiche che andrebbero risolte. Che novità si registrano da questo punto di vista? Perché anche qui l'emergenza coronavirus ha in parte bloccato, voglio utilizzare questo termine, anche l'attività del Comitato. Certo, noi abbiamo evitato, fin da quando siamo nati come associazione di volontari, attenti ai problemi della qualità dell'assistenza sanitaria, non ci siamo mai posti come censori o valutatori dell'attività di questo o quel commissario, di questo o quel direttore. Quindi non è tanto la qualità personale, perché in questo caso, sul piano personale, il dottore Zappia è persona, secondo me, gradevolissima. Già, è un qualcosa rispetto a precedenti che abbiamo avuto. Ma noi siamo, va bene, ma guardi... No, no, volevo soltanto fare facile ironia rispetto a commissari con i quali anche noi, a livello giornalistico, abbiamo avuto non pochi problemi. Abbiamo trascorsi comuni per molti aspetti. Quindi non ecco in discussione alla qualità personale di questo o quel commissario, che ripeto, in questo caso è persona gradevole, ha impegni incredibili, sicuramente ha ereditato come i suoi predecessori una realtà quantomeno opaca, diciamo così, voler essere generosi. Quindi con tutta la buona volontà che può avere, è un commissario nominato dalla politica, da questa politica che ha avallato scelte sciagurate nel panorama delle strutture del servizio sanitario regionale. Non è un mistero che la Sicilia sia un terreno di caccia per le più prestigiose fondazioni italiane che approdano qui, fanno utili, profitti, creano nuove strutture gigantesche e talvolta c'è anche un rapporto molto strano fra alcuni degli amministratori di questi enti e alcuni ambienti politici, insomma, quindi andare nel dettaglio, forse se ci vediamo qualche servizio antico delle TV nazionali a partire dal report sulla sanità in Sicilia, troveremmo molti spunti curiosi. Quindi, ritornando alla sua domanda, non è qui in discussione la qualità delle singole persone, ma è il cosiddetto mandato, ma è troppo generico, perché quando una persona di buona volontà non riesce a sbrogliare, per esempio, in tempi che avrebbero dovuto essere fulminei, il problema della mancanza delle figure apicali, perché a parte la carenza, fra virgolette, generica di personale, che si potrebbe, allora, quando si ha a cuore la qualità dell'assistenza ai cittadini e non altre cose, si concentrano le risorse, il personale si mette da là dove serve di più, qui non solo c'è stato questo problema, poi reso ancora più grave delle cose di cui abbiamo parlato finora. Ma noi abbiamo il primato del numero di primari, faccia anche funzione. Il 70% dei reparti dell'ospedale di Sciacca sono privi di figure apicali. L'ultima volta che l'abbiamo incontrato ci ha detto che erano in itine, avrebbero dovuto nominare le commissioni e forse era pronta anche la nomina di qualche direttore di qualche struttura, che poi stranamente si è arenata in particolare, che forse era una di quelle più critiche. Però il fatto che non si riesce, sarebbe interessante sapere quali sono i meccanismi attraverso i quali, certo, la nostra non è un'ASP appetibile per molti medici, di fronte alla possibilità di avere un incarico di pochi mesi e alla possibilità di avere un incarico di un anno, non solo nel nord, ma in strutture, anche a Trapani, anche a Catania e così via, è evidente che c'è qualcosa di locale, di geografico che pesa, diciamo, in questi settori. Dei reparti senza primari di qualità, aggiungo, i reparti senza primari di qualità sono esposti a moltissimi rischi, intanto che i facenti funzioni sono costantemente sotto ricatto, perché io non penso che i responsabili dei reparti non abbiano segnalato per iscritto le condizioni o scene in cui spesso sono costretti a lavorare, ma è evidente che quando tu hai una posizione precaria a tempo, è facile che il commissario, anche se tu ricorri al politico di turno, oppure vieni invitato per vie sempre ufficiose, mai pubbliche, a fare qualcosa che tu sai benissimo che non dovresti fare o non dovresti imporre ai tuoi collaboratori, quindi lavorare, come dire, con questo eterno ricatto di non avere la conferma del ruolo di facente funzione, fare vedere continuamente questo dolcetto, questa promessa a futura memoria che forse ti potrei anche nominare direttore, poi si vede, è chiaro che crea delle situazioni di precarietà che rendono impossibile anche a un aspirante al premio Nobel di lavorare in condizioni appena serena comunque. Senta, a proposito di cose che andavano fatte, che sono rimaste sulla carta almeno, così credo, il famoso piano di riorganizzazione della retospedaliera, insomma avevamo tanto lottato, avevamo ottenuto qualcosa che sembrava tutto sommato, era di, diciamo, stato apprezzato, e poi che cosa è successo? E poi noi rischiamo di essere, cioè per le manovre di cui abbiamo avuto conoscenza, compreso una bozza di nuova dotazione organica per l'ASPA di Agrigento, c'è sicuramente la sensazione che il destino dello spadale di Sciacca come Dipartimento d'Emergenza di primo livello si possa anche rinunciare, perché sono più importanti certi vincoli o certe promesse politiche fatte in tutta direzione. Ma se c'è un piano? Sì, ma già da questo ci sono delle scelte che sono sicuramente assurde, per esempio noi assistiamo alla creazione di una seconda, perché noi che gli altri ospedali stanno fermi perché noi siamo di Sciacca o di Agrigento, giusto? Già si parla di una nuova emodinamica a Castelvetrano, va bene? E non si capisce quale sia questa necessità, perché sarebbe possibile anche dal punto di vista tecnico creare delle strutture interaziendali, se ci sono strutture per esempio l'emodinamica a Sciacca si potrebbe creare una struttura, non so, di chirurgia d'urgenza, non lo so io, a Castelvetrano il robustito delle terapie intensive dei due ospedali principali e lavorare al meglio, perché questo doppiono, comunque a parte questo, per esempio è prevista una cardiologia a Ribera, vorremmo capire a che titolo, con una dotazione di apparecchiature sovrapponibili, la radiologia di Agrigento si vede attribuire 20 medici e un numero proporzionale di tecnici di radiologia, la radiologia di Sciacca, se ne vede attribuire praticamente alla metà con dei volumi di lavoro che sarebbe interessante andare a confrontare, i volumi di lavoro dell'oncologia di Sciacca sarebbe interessante sapere come tengono conto della dotazione di personale rispetto alle altre strutture analoghe, tra l'altro Sciacca dovrebbe essere destinataria dell'ospice, cioè di quella struttura che segue i casi più gravi di malati oncologici, quindi quando noi assistiamo a scelte di questo tipo e o al mantenimento così come una sorta di berretto di cappello messo sulla sedia, la cardiologia a Ribera, ma per fare cosa? Per accelerare lo smantellamento dell'emodinamica di Sciacca? Allora vuol dire che ci sono, o sono degli incompetenti quelli che mettono mano a queste ipotesi, oppure che ricevono input che non hanno niente a che vedere con la qualità dell'assistenza e con la valorizzazione della sanità pubblica rispetto a quella privata. Senta, però non si potrebbe obiettare, però dai vostri discorsi sembra quasi che tutto debba essere concentrato ad agrigento e che altre realtà ospedaliere non siano degne di continuare a vivere. Lei ne fa un discorso diverso, lei non dice che vanno aboliti, vanno smantellati altri ospedali, che va diversificata l'offerta sanitaria che altra cosa. Ma diversificata non significa fare il doppione delle stesse cose. Su questo io spero, ma lì il problema sa qual è? Io spero che si tengano presenti le linee di... No, perché le dicevo questo? Perché a Ribera continuano a protestare chiedendo l'ospedale di zona diseggiata. A Castelvetrano c'è un movimento orgoglio castelvetranese che ha ottenuto, pare, già delle promesse da parte della politica di tornare a investire sull'ospedale. Sembrano che ognuno faccia la battaglia per il proprio ospedale, come se fosse una questione di campanilismo, di mettere il cappello, come dice lei. E non tanto quello di migliorare l'offerta sanitaria di tutto il territorio. Perché alla fine Castelvetrano e Ribera, vicino a noi, sono ed è interesse di tutto questo territorio. Se poi io riesco ad andare all'ospedale di Castelvetrano, così come a quello di Ribera, a quello di Sciacca, a quello di Agrigento, ampliando il più possibile l'offerta sanitaria. Il problema, secondo me, noi abbiamo dimenticato una cosa. Nei provvedimenti legislativi che hanno portato alla creazione dell'ASP coincidenti con le province, intanto abbiamo dato un potere a chi aveva più peso al capo della provincia, che poi non sempre si traduce in scelta di qualità dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi. Ma molti, diciamo, di quelli che entrano, scendono in campo per difendere il mio ospedale contro l'altro ospedale, dimenticano che ci sono strutture che hanno una valenza territoriale. L'ospedale di Sciacca ha sempre svolto un ruolo che andava al di là dei suoi confini geografici. Noi abbiamo sempre gravitato nell'area di Castelvetrano e anche di molti paesi, così come questa dell'ospedale di Ribera, sempre con quella immagine legata alla sua natura di doppione, quindi un'altra chirurgia, un'altra ortopedia, qualcuno l'ha detto, ha chiesto esplicitamente, un'altra cardiologia. Nasce, secondo me, intanto da, intanto non penso che le popolazioni vogliono effettivamente questo. Le popolazioni, come dire, si muovono in ragione di ciò che gli opinionisti, gli opinionisti dei paesi propongono loro, perché se noi andiamo a vedere i dati di attività precedenti il Covid, le popolazioni di Bivona, di Cianciana, Raffadali e via discorrendo per i comuni che gravitano nell'area del distretto di Sciacca, venivano direttamente a Sciacca e continuano a venire direttamente a Sciacca. Con quella situazione assurda che noi spostiamo medici dal pronto soccorso di Sciacca al pronto soccorso Covid di Ribera per fare cosa? Un pronto soccorso con tre persone non può esistere, tant'è vero che questi medici lavorano per il resto delle ore, assieme ad altri medici dei riparti che ancora esistono a Ribera, in regime di prestazioni aggiuntive. Qualcuno, prima o poi, si deciderà, spero, a calcolare quanto sono costate tutte queste prestazioni aggiuntive durante gli ultimi due o tre anni e con quali motivazioni sono state erogate. Ma quello che emerge è che alla fine ognuno difende il proprio orticello e che le scelte della politica sono fatte in base all'interesse dell'orticello e noi riusciremo mai ad uscire da questa concezione che non è solo della politica, anche della base dei movimenti, delle associazioni. Anche il Comitato Civico per la Sanità è stato accusato di fare solo e guardare all'interesse solo dell'ospedale di Sciacca. Ma non è vero. Si diceva, ah, non si dice mai che è ospedale di Sciacca, ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. È frutto di un escamotage retorico e di una furbata di un politico che in occasione della presentazione di uno dei documenti del Comitato Civico, quando lottavamo per ottenerlo lo status di Dea di primo livello, disse che bisognava firmare il documento così. Intanto ospedali civili riuniti di Sciacca e Ribera non significa che 50% le cose le facciamo qui e 50% le facciamo lì, perché questo sarebbe qualcosa degno del bagaglino. Perché io qualche volta ho proposto che facciamo la medicina nei giorni alterni, l'ortopedia la facciamo in quelli pari, in quelli dispari, facciamo Ribera, negli altri giorni la facciamo Sciacca. Diversificare significa avere strutture non che possano soddisfare le mile di carriere nel piccolo ospedale che qualche professionista può anche ancora inseguire nel 2021. Perché fare una carriera dall'inizio alla fine in un ospedale che aveva forse in origine Centro Posti Retto, non so quanto sia... Diversificare cosa significa? Significa seguire quello che prevedono i piani nazionali di programmazione. La diversificazione significa offrire prestazioni erogabili in regime non di ricovero, aumentando possibilmente anche le spese. E soprattutto garantendo e pretendendo parità di trattamento, se dobbiamo far parte di un'unica comunità, dobbiamo farla a 360 gradi. Non può essere che ci sono medici che da qui e personale in generale che possono e debbono andare a Ribera e persone che hanno fatto tutta la loro carriera senza mai oltropassare professionalmente il fiume verdura. Questo è una concezione della sanità che secondo me nemmeno quelli che dirigevano gli ospedali di 40 anni fa avevano. Oggi la sanità costa. Ha bisogno di persone motivate e ben retribuite. Ha bisogno di controlli sani e costanti per verificare che la qualità di ciò che offriamo sia uguale a Sciacca come a Ribera, come nei centri di eccellenza di Palermo, di Catania oppure di Torino. Perché se noi non siamo in grado di garantire questo, noi abbiamo preso in giro prima i pazienti e poi ancora di più i professionisti. Perché spesso i pazienti sono ignari, ma sempre meno delle scelte che vengono fatte. Quindi se poi tutto si riduce a una questione di potere, perché qualcuno deve dimostrare che ha i bicipiti più voluminosi, lo faccia, ma questo avviene soltanto a danno di chi ha bisogno reale di prestazioni efficaci e senza che gli vengano svuotate le tasche. Adesso le chiedo per un'altra cosa. Il Comitato Civico per la Sanità di Sciacca, sin dalla sua Costituzione, ha portato avanti tante battaglie. È arrivato anche per mesi a fare un presidio all'ospedale. Ma i saccensi l'hanno capita questa vostra battaglia? Perché poi alla fine c'è anche da chiedersi questo. Mentre altrove le associazioni hanno seguito, qui spesso è sembrato come se la battaglia per l'ospedale fosse di Cucchiara, Giordano e qualcun altro sostenuta dai mezzi di informazione e poi non mi interessa. Che cosa succede in questa città anche da questo punto di vista? Cosa avete registrato voi in questi anni? Avete sentito questa sorta di stacco poi che non doveva esserci perché dietro il Comitato doveva unirsi una città, un territorio addirittura, non una città. La sua riflessione, per la verità, nella fase iniziale quando c'era l'obiettivo del DEA di primo livello, le comunità si sono, noi abbiamo mobilitato praticamente i comuni dell'intero territorio. Ci sono state due bellissime manifestazioni, una la vecchia chiesa della Perriera e l'altra presso la chiesa di Santa Margherita, dove fu formato il documento finale in cui tutti abbiamo condiviso la richiesta di mantenere Sciacca Comedia di primo livello. Quindi questa fase c'è stata, perché non avviene là? Intanto secondo me la popolazione, però generalizzare è sempre, ma comunque quelli che si interessano, nella stragrande maggioranza dei casi, quando ci incontrano, ci fermano, perché capita anche questo, che tutti ci chiedono informazioni, ma come va? O che vi rappresentino dei problemi, dei suggerimenti. Ne abbiamo ricevuto un mare, chiaramente, ne abbiamo segnalati come abbiamo potuto al meglio. Però capita anche che qualcuno, ma che cosa volete concludere? Questa è la rinsegnazione che c'è in tutte le comunità. Però io sono convinto che per coloro che hanno un atteggiamento più critico, molti considerano, come dire, sono increduli, cioè non credono all'idea che qualcuno possa privare un'intera comunità di un ospedale funzionale. Infatti la reazione detta in dialetto ha messo fuori. Allora, finché c'è, quindi quasi quasi sono scettici, per dire, ma dove vogliono? Cioè è una battaglia che non sentono perché è come se fosse lontano dall'immaginario. È lontano dalle loro idee, che qualcuno possa avere idee così perverse, solo per interessi di bottega. È vera anche un'altra cosa, che la politica ha sottovalutato finora il retroscena che c'erano dietro queste richieste che potevano sembrare pittoresche in altre fasi. No, qualcuno poi ha preso sul serio. Visto che il giocattolino funzionava, no? Promettere chissà che cosa. Poi sai, mettiamo due cardiologi e poi chiediamo il reparto. Chiediamo tre medici per l'emergenza Covid e poi lo facevamo a diventare pronto soccorso. Cioè queste cosiddette spirtizze pirandelliane, stanno rivalando alla loro fragilità, perché qui non stiamo giocando noi, non ci stiamo giocando alla sopravvivenza dell'ospedale di Sciacca o di Ribeiro di Castelvetrano. Noi ci stiamo giocando l'esistenza stessa del servizio sanitario regionale. E secondo me qualche politico forse incomincia a capirlo solo adesso. Non dimentichiamo che in questa deriva campanilista scadente, perché questa campagna che non nasce ora, è iniziata già con il precedente governo, quello che precede l'attuale, ma noi abbiamo visto all'opera esponenti di movimenti e di partiti che venivano a Sciacca e promettevano che Sciacca sarebbe diventato chissà che. Andavano a Ribera e dicevano che Ribera in ogni caso sarebbe diventato il top della medicina mondiale. Poi andavano a Petraria, a Bronte, a San Cataldo, a ripetere queste. Quindi evidentemente questi personaggi o erano ignoranti, e sono ignoranti, o avevano già sposato fin da allora, l'idea che alla fine gli ospedali li lasciamo come luogo di scorrerie per le nostre avventure politichese o da politicanti, è male che vada le persone se vada nel privato, tanto sono convenzionati. Le do un dato che mi ero appuntato, ricavato da un libro che sto leggendo da poco tempo, per quello che riguarda i rapporti tra privato e pubblico. In Italia il 31% dei posti letto è di proprietà dei privati. Per gli acuti loro se ne riservano solo il 23,5%, quindi oltre il 60-70% perché gli acuti sono i più rognosi. Mentre il privato controlla oltre il 51% delle strutture per lungodegenza e arriva al 73% delle strutture per la riabilitazione. Qui c'è tutto. Io penso che in Sicilia forse la situazione sia per certi aspetti e per alcuni settori anche peggio. Allora, se noi non abbiamo presenti questi dati e continuiamo a fingere che si tratta della solita scaramuccia, a parte il fatto che se dovessimo prendere sul serio questo orientamento ci sarebbe da chiedersi ma scusa perché non dovemmo riaprire l'ospedale di Santa Margherita? Per esempio. O perché non crearne uno a Bivona? Con tutte le strutture però. Perché noi che sono centri di minore valore. O a Menfi. Perché? Cosa lo impedirebbe? Se il principio è di avere un ospedale mentre guarda caso, quelli sono luoghi in cui le case della salute potrebbero garantire un livello di assistenza e una presenza di personale specializzato, che ora si chiama anche case di comunità se non ricordo male, di livello sicuramente superiore a quello che attualmente hanno. Quindi qualche politico dovrebbe smetterla di giocare col fuoco perché alla lunga giocare su un consenso che si basa sul nulla spesso o quasi sempre alla lunga si ritorce su chi ha voluto fare all'apprendista stregone. E poi gli opinionisti, i medici e i professionisti, i medici, non solo gli ospedalieri. Ma chi fa, chi svolge questa professione sa benissimo che avere l'ospedale sotto casa non ti garantisce una medicina di qualità. Anzi spesso è una trappola. È una trappola per i pazienti e per chi ci lavora. Serve a tutt'altre cose. Questi ospedali servono a garantire altre cose che sono diverse dalla tutela della salute e della valorizzazione dei professionisti. Senta, siamo verso la conclusione della trasmissione, però io approfitto, lei è un pediatra in pensione, pediatri si rimane a vita. Lei avrà sicuramente seguito il dibattito in questi giorni, adesso è concentrato sui bambini, anzi sulla fascia 5-11 anni, quella che è stata ammessa alla campagna di vaccinazione. Le chiedo, lei cosa direbbe a mamme, papà, che in questi giorni chiaramente si pongono, ma giustamente si pongono delle domande, perché ogni scelta deve essere consapevole, però documentandosi magari con le persone giuste. Perché in questo periodo di Covid abbiamo anche scoperto che siamo tutti diventati medici, virologi, sappiamo tutti, tutto come curarci. Nanopatologi anche, ci sono anche i nanopatologi. Possiamo abolire gli ordini, le parole delle professioni, non c'è più bisogno di nulla. Mi fa piacere chiederglielo proprio perché immagino che anche da noi ci siano tante famiglie che cominciano ad essere un po' così. Io risponderei così, perché non vi siete posti questi problemi con tutti gli altri vaccini che avete somministrato ai vostri figli a partire dal primo anno di vita, se non dai primi mesi di vita? Perché si sostiene, questo è un vaccino diverso, questo vaccino mRNA, l'ho detto bene, perché adesso che cosa ha di diverso rispetto alle vaccinazioni che lei diceva? Noi abbiamo fatto anche i vaccini facoltativi, perché io ricordo che la mia pediatra mi diceva signora ci sono i vaccini facoltativi e io chiedevo sempre, lei cosa mi consiglia? Allora, io sono convinto che le perplessità sono legittime e vanno per quanto possibile risolte con gli argomenti. Quindi partiamo però da questa premessa, che noi attualmente somministriamo qualcosa come 10 vaccini per malattie le più svariate nel primo anno di vita. Poi si passa a quelli per l'opneumococco negli adolescenti, per il papillomavirus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi già noi facciamo questo. Perché? Il problema, molte si chiedono c'è un vaccino che ha mRNA, ce ne sono altri che poi sono stati messi da parte momentaneamente per motivazioni che... Vaccini a vettore virale. A vettore virale. Guarda caso per esempio qualcuno dei vaccini, perché nessuno ci è preoccupato del vaccino per l'epatite, per esempio, che è fatto con DNA ricombinante, che utilizza come vettore dei plasmidi. Allora, ci vuole anche un minimo di... ci vuole anche qualcuno che indirizzi verso la buona documentazione. Ma non eludo la sua domanda. Allora, anche in questo caso, devo citare qualche numeretto. Intanto non è per niente vero che i bambini sono in genere, finora sono stati meno colpiti, ma non sono immuni. Incominciamo da questo. E allora, c'è un documento che è fresco della Società Italiana di Pediatria e che dice che dall'inizio dell'epidemia a novembre del 21 abbiamo avuto noi 4.818.000 casi di contagi. Nella fascia di popolazione tra 0 e 19 anni sono stati confermati 791.000 casi di contagi, di cui 8.451 ospedalizzati, 250 ricoveri in terapia intensiva e 36 deceduti. Nella fascia dai 6 ai 10 anni, in due mesi, c'è stato un incremento pari a 24.398 casi. Oltre all'aumento dei casi, in tutta la fascia d'età si rileva un'incidenza più elevata nella popolazione di età inferiore ai 12 anni. Allora, fermo restando che è meno pesante l'entità del contagio rispetto a quello che avviene nella popolazione adulta, i bambini si possono ammalare e in pochi, tra virgolette, casi, ma sono reali, possono andare incontro a complicanze potenzialmente mortali o che comunque lasciano reliquati pesanti. Si parla di long covid anche. No, quella è una complicanza tardiva, correttamente l'hai ricordata, da non trascurare, ora ne accennerò brevissimamente. Nella popolazione pediatrica, al di sotto dei 12 anni, si può verificare una sindrome cosiddetta, una sindrome infiammatoria multisistemica, che è una malattia gravissima. è una malattia che si presenta con sintomi che possono simulare infarti, che possono simulare insufficienze respiratorie acute, che si accompagnano a dolori addominali e complicanze addominali, eccetera, eccetera, e che richiedono trattamenti in ambienti di terapia intensiva di alta specializzazione. Quindi, i bambini, nella fascia al di sotto, sono a rischio e così come li abbiamo protetti con i vaccini, vanno protetti anche… questi vaccini sono nuovi perché sono più moderni, ma sono più moderni perché questo virus è particolare, non è come gli altri virus, come hanno tentato di sostenere molti sciagurati che hanno… confondono ancora e continuano a confondere alle persone. Non… come dire, noi non avevamo in presenza avuto una pandemia con un virus così mutevole, così aggressivo, con sintomatologie così talvolta sfuggenti all'inizio. Ecco perché inizialmente si pensava di assimilarlo a una sorta di influenza, non è per niente così, è molto più mutevole e quindi era molto più difficile scegliere, individuare una tecnologia in grado di creare un'immunità, anche temporanea, che consentisse di rallentarne la diffusione. Quindi questi vaccini sono stati sottoposti allo stesso ITER che è stato seguito per tutti gli altri vaccini, dagli enti certificatori più autorevoli. Fra l'altro è chiaro che presentano anche dei limiti, dei limiti tecnici, nel senso che è il fatto… intanto di costo, ma per noi a quanto pare non è un problema. Provate quello che significa un vaccino del costo unitario di 20 dollari per un paese come l'India, oppure come il Sudan, oppure come la Nigeria, dove con redditi che sono dell'ordine di quello che noi consumiamo mediamente per un pranzo, per un pranzo a casa, tanto per intenderci. Quindi si sa che ci sono in corso altre sperimentazioni per vaccini che non comportino i limiti che inizialmente alcuni di questi vaccini avevano, innanzitutto quella della durata, che non è un difetto intrinseco del vaccino, ma è dovuto all'estrema capacità di mutare, di ingannare quindi l'organo, perché mutazione per un virus significa capacità di ingannare il nostro sistema immunitario. Quindi le dosi, lo chiariamo, perché è chiaro che come succede con gli altri vaccini, non potevano essere esattamente quelle degli adulti. Per quello che se ne sa, già la campagna è in corso di avvio, le dosi dovrebbero essere circa un terzo delle dosi normalmente utilizzate per le vaccinazioni che abbiamo fatto, mi auguro tutti noi adulti, finora. Quindi non ci sono problemi ragionevoli per temere questa vaccinazione, questa nuova vaccinazione per i bambini nella fascia superiore tra i cinque anni, più di quante non ne abbiamo avuto con i vaccini che abbiamo impiegato finora. Quindi se questo è sufficiente… E poi in ogni caso noi diciamo rivolgetevi sempre ai mediati, rivolgetevi sempre ai medici. E se hanno delle perplessità scegliete quello che ne ha di meno. Comunque documentatevi con le persone giuste, ognuno è il suo. Documentatevi con le persone che hanno la cultura e l'esperienza per darvi le informazioni utili e che quando non li hanno sono in grado di recuperarle dalle fonti più autorevoli. Tenete lontani quelli che leggono il resoconto che gli ha fatto il cugino, il nipote o l'amico che veniva dal nord, insomma. Grazie, grazie intanto per aver partecipato alla trasmissione e grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.